Siamo giunti al Passo del Grostè, la meravigliosa pietra grande, il rifugio Stoppani e poi un tuffo nella Val di Flavona Mamma mia che meraviglia La nostra meta in salita, la bocchetta dei tre sassi Manca poco, manca veramente poco Signore È la cosa più tranquilla o no? Che bello Olè E la lunare va al gelada Bene, eccomi giunto finalmente alla bocchetta dei tre sassi L'obiettivo, la meta di questa gita La bocchetta che divide la Val Flavona dalla Val Gelada e il Passo Carlo Magno Grazie a tutti Oh! Woohoo! Ahhhh... And then due to the Grazie a tutti. Ops.